Uno contro l'altro, ognuno ha una torre, ognuno ha un'isoletta, cannone contro cannone Allora, l'hai già equipaggiato? Sono già pronta, Steph, sì Ok Ti stai perdendo in ciance qua E ragazzi, come va? Io sono Ferenica E sono Steph, e che stai dicendo a Minecraft Benvenuti nel nuovissimo episodio di Minecraft, il migliore in assoluto Perché finalmente io potrò avere tutte le armi che mi merito Finalmente, è arrivato questo giorno Almeno due volte alla settimana Ferenica deve dire questa frase Almeno due volte alla settimana Non è vero, non la dicevo da un sacco di tempo L'hai detto con i cricetti, Ferenica Non è vero, non l'ho mai detto per i cricetti, Steph Allora, allontanati C'è una sola regola in questo video Voi a stare così lontani, Steph Sì, questa è la mia cesta Non potrei venire mai a sbirciare Ti darò io le cose che dovrei provare E le proveremo una alla volta Perché hai messo un manichino dentro un albero? E beh, ne ho voluto mettere un po' ovunque Mi sembrava divertente Ah, è uscito storto quello Allora, questa è la tua prima arma Ok, è uno sticcadenti No, è un Iron Spear, Ferenica È l'arma perfetta per stendere uno che sta a cavallo Esatto, devi provarlo lì Ok, sì Ok, però Mi piaceva non troppo, ti dico la verità E poi come puoi notare comunque Con un manichino alla fine Non ha molto senso No, cosa noti? Cioè, si muove ma non capisci quanto non hai fatto Quindi io ho preparato qualche spider da affrontare Così almeno puoi capire la sua potenza Cosa dici? Com'è il feeling? Vai, dammene un altro Così, così, Steph Cioè, non mi sembra così esageratamente potente Poi l'estetica, sei com'è Non è che mi piaccia più di tanto Restituisci, restituisci Passiamo a quella successiva Allora, posso dirti giusto una cosa? Dimmi L'ultima cosa è che proviamo un cannone Oh, beh Ok, ok No, perché Poi magari inizi ad essere un po' spenta Perché pensi che Steph ti ha portato delle armi brutte Ma no Fede Che cavolo stai a fare? No Questa è già un po' più carina Sì, è un po' più bella Ok, allora Vai a provarla da qualche parte Non sul pollo Ovviamente Ok Ok, sul manichino vedi Non si tratta di differenza Allora, no, mi sembra che si muova un po' più veloce È come se stesse per Cioè, prendendo più danno Ma secondo me stavi prendendo lo spider a distanza Picchialo? No, vedi Mi ci devo comunque avvicinare Ok, allora Te ne metto un altro, vai Perché ce l'hanno come porca miseria Due No, no, no Sempre tre Tupiamolo un po' Quindi passiamo Ok, finalmente A questo Steph Dimmi C'è un polletto che sta annegando Raccoglilo Steph Stava annegando E se ti ribelli Colpisco anche a te Fa malissimo Smettila Davvero? Sì Comunque Dato che stavi criticando le armi classiche Decise di tirare fuori il boomerang Che è una figata No, vabbè Bellissimo Almeno questo è bello Devi tenere premuto a destra O mirare chi Bello Sì, mi piace questo, Steph È bello Ok Ma fa doppio danno anche al ritorno No, non mi sembra No, sembra che faccia danno solo all'andata Vediamo se te ne metto tipo due Ok, per favore smettetemi di seguire a me Ma attenzione L'ha mancato L'ha mancati Ok No, vedi non fa danno al ritorno Ma perché rimbalza proprio e torna indietro Sì, esatto Rimbalza sul bersaglio che prende Tipo questo L'ha preso bene Sì, 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 sì Questa è già divertente Oh, 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 oh Non vedi che lo fa anche al ritorno Se ti sposti forse Perché cambia la sua direzione Ne rientro E quindi lo prende Ah, carino, dai Sì, se fa danno anche al rientro è bello È molto, molto, molto bello Abbiamo Ascia Ok Però è piccolina Come puoi notare Sì Ok E la provi subito su uno di questi Vai Uno Due E mi sta sempre solito i tre hit Sì Poi abbiamo Il pugnale Che è bellissimo È troppo bellino, guarda Questo è carino Secondo me è sempre tre colpi Vediamo Una, due, tre Esatto Sì, sì, sì Però puoi fare Ma Che stai facendo, Steph? Non lo so come funziona Hai capito cos'è? No L'ammazzacchiorata, fare Ah, ok Sembrava un'esca Non lo so È stata molto strana È strana Forse devi roteare Tecnicamente si rotea La siri verso il bersaglio Ti giuro Prova a darmela Io non capisco come si usa Cioè, se faccio così ti ho colpito? Sì, vedi Devi roteare Stai scherzando È perché funziona così Pensa alla mazzacchiorata Si rotea Spim Spim È difficile È un po' strana, eh Ok, ok Però sì, sì Oddio, fa malissimo Allora Pronta? Ok Oh, cavolo Ma perché è nato? Vado Vai, Fere Rotea, rotea, rotea Ce la posso fare? Sei una schiappa Aspetta, andaghi Devi fare proprio movimenti di inquadratura Capisci? Ah, così Eh Eh, sì Perché non capisco più l'inquadratura È morto da solo Lo scheletro è morto da solo È abbastanza complessa È strana È una freccia in testa Davvero? Ok Guardati Fai molto ridere Dannazione Facciamo così No, è molto particolare Però è carina anche questa No, no, tienila Ok Tu usi quella Gli uso un martello Ci affrontiamo Però aspetta, ho la vita un po' bassa Mangia No, ho mangiato Ma non mi si stanno ricaricando È molto lenta La ricaricazione La ricaricazione Allora, mentre picchio questo Per aspettare che tu finisca Ma non capisci nulla Cosa c'è? Guarda Sei un incompetente Si può tirare il coltello? Sì, sì, sì Guarda, aspetta Ok Così pari? Sto parando Praticamente diverse armi Me ne sono accorta un po' frugando Hanno delle spell diverse Se premi tasto destro Quindi delle abilità diverse Ho scoperto che il mio martello Ha una abilità interessante Un martello di Thor Cosa? Cos'è? Un martello di Thor? Vieni vicino No Vieni Bum Mazzacchiodata Hai visto che potenza? Ma quindi che fa? Lo lanci? No, prova Ok Devi tenere premuto tasto destro Per un po' di tempo Ok Ok Molla Vado Vai Hai visto? Fa una sorta di esplosione Sì Però volevo provare un attimo Questo È una figata lanciare il coltello Questo è spettacolare No, le resta sono belle queste È davvero difficile Perché non sono armi semplici Sì è difficile Allora ma Anche perché è abbastanza No, ha ben venuto un dubbio Fere Dimmi Se queste armi hanno il tasto destro Ce l'avevano anche le prime due Probabile Vai Che fa? Forse no Questa la potevi lanciare Guarda Pum Ah, ebbè Il giavellotto No, è un'area non spiare Il giavellotto ce l'abbiamo più avanti Ah, non è il giavellotto Quindi comunque non ti confondere Ha una lancia quindi Esatto Adesso abbiamo Ah, vedi Da qui Quindi altezza di questa panchina Ok Chi riesce a colpire Il coso Il manichino 3, 2, 1 Io l'ho preso E anche tu Anche io Gli ho preso Gli ho preso il braccio All'altezza di questo manichino Vieni Ok Ok Questa volta è difficile Lo stesso manichino sempre Ok Allora, secondo me devo fare una bella parabola Tipo Così È colpita a me, Steph Ah Tu l'hai mancato? Eh, ci sono andato troppo lontano Troppo lontano Pim L'ho mancato anche io Io ho troppo vicino Cioè, più o meno Così? Sì Sì È difficilissimo Ma è bello È difficile, è strabello Mi piace il giavellotto Mi piace il giavellotto Sei full vita? Sì Aspetta che mangio Come funziona? Uno contro l'altro Credo che il ritengo Nel premuto tasto destro Ah, e si ricarica Esatto Immagino anche il mio Ok, pronta? Vado Uno contro l'altro 3, 2, 1, via Ok, io mi devo muovere Ma come tiro? Ah, ok, aspetta Ma l'ho tirata io? Ok Ma è strano come si spara Fa male la balestra Vai, vai Fa malissimo Vai, vai, Steph Ci riaffrontiamo? Sì Aspetta Allora, è strano Perché devi ricaricare Ah, il tardo è molto Molto a corto raggio Ok, pronta? Sì 3, 2, 1, via Vai Ok, mi devo muovere tantissimo Per scrivere i suoi colpi A Ziggo Zago Bye, bye, Steph Posso colpirti una volta? Vai, sì Voglio vedere che fa Steph Ci sei? Ciao, fai Ok Facendo cose strane con le mani Mi ha avvenenato Ok 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 Porca miseria Fa schifo La balestra c'è da dire Che è molto forte È fortissima Molto forte Infatti Ce l'hai carica? Voglio vederla su uno spider Vai Pronta? Vai Vai Ok Colpo secco Colpo secco Uh Sì che è un fucile Aspetta che mi devo togliere un po' di cose Perché mi hai dato troppe Armi o la barra piena? Perché l'hai fatta? Oh Mio Dio Che feeling da sparare con quest'arma Allora Devi ricaricarla e ci metti un sacco Eh l'ho persa Non so più dov'è Come è possibile? Allora Questa qui Beh è qua È qua È qua È qua È qua Ho perso i proiettili No è questa Ah ok L'hai ricaricata? Credo di sì No mi sa che Non sono i colpi giusti Quelli Eh penso di averli persi No 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 Ti ho dato i colpi Ma non sono quelli giusti Forse sono questi qua Sì 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 Sono questi Ma allora che cavolo spari tu? Sono preoccupato Guarda se adesso ricarica Sì Oh cavolo Come sparo? Credo riprendendo destro Uh sì Ok Prendi la mira Guarda Non capisco bene Aspetta proviamola sul Manichino volevo dire Ok ok Quindi fa un'esplosione È un fucile a pompa È un fucile a pompa È un cavolo di fucile a pompa Sì 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 Oh cavolo È lentissimo da ricaricare Cioè da dire questo E quindi va a colpo singolo Però è forte È bello 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 Bella col moschetto eh Vai Distantissimo Stai ferma? No Ferma? No Ferma? No Ferma Vai Hai preso il manichino Perché se ti muovi Eh devi essere abile Devi riuscire a prendere Ma non è così mirato Oh Oh avevo la vita piena Avevo la vita piena È arrivato il momento Mi vedi? Delle cose belle Steph Beh Che dici? A me non sembra brutto Voglio sentermi anche io Dammelo Spostati dai un colpo Forse devo prima inserire il cannone Non funziona Tipo che devi andare No? No? Però in effetti era ovvio Gunpowder Ok Ci stava Ci stava Poi avere da sparo Allora Teoricamente adesso Se sali sul cannone E premi E tieni premuto a tasto destro Ok Teoricamente si carica L'ho ricaricato Ok Mira dove vuoi sparare Quella casa Premi spazio Ok Ha funzionato Ok Quando ci vuole ricaricarlo di nuovo? Eh non lo so È molto particolare Non me lo fa ricaricare adesso eh Ok Ok devi scendere Ok Lo ricarichi Ok Poi lo accendi È molto strano Pronta Ti metto tre ragni qua Ok Vai Uno due Tre Vai Ok vai Oh Uno non è morto subito Però devo dire che è molto bello Molto scenografico sto Mi piace un sacco Mi piace un sacco Aspetta di nuovo Vai che lo ricarichiamo Allora Sto pensando Sto pensando Sto pensando Sto pensando Potremmo fare una sfida Uno contro l'altro Ognuno ha una torre Ognuno ha un'isoletta Torre Cannone Contro cannone Allora L'hai già equipaggiato? Sono già pronta Steph Sì Ok Ti stai perdendo in ciance qua Tre Due Uno Via Ok Ok Devo sparare molto più in alto Quindi scendo Lo ricarico Ci risalgo Fuoco Oh Uh Mi hai preso in faccia Mi hai distrutto il cannone L'ho distrutto? Eh sì Dove sei? Dove scappi Fere? A cercare di riprendermi il cannone Mettila Steph Quanta vita hai ancora? Quanta vita hai? Steph con i cannoni è troppo forte Perché era un pirata E' abituato ad usarli Ti ho mancato Ti ho mancato Ti ho mancato Dannazione Non pensavo lo potresti recuperare Porca miseria Aia Uh mi hai sfiorato Ma dai Cavolo mi devo spostare Che fortuna che hai Proprio una fortuna spacciata Adesso ti ho sfiorato anche io però Fuoco Dai Ti ho mancato di nuovo Cavolo io prendo solo la base Della tua accidente di Isa Un pochino più in alto Vado così Ora A parabola Vai no Basta Basta Io però C'è da dire che ti ho sconfitto Con tutte le altre armi Ma Solo con la balestra Che era fortissimo Con quella eri brava però Beh ragazzi Se vi è piaciuto Lasciateci un like Nella prima volta Che tutto il nostro video Potete considerare Iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima